Ciao a tutti, io sono Simone Desi, ho 35 anni, abito a Villale Guardiera nella provincia di Alessandria e sono l'atleta di Parabox. Che considerazione ha la federazione della Parabox? Allora, la federazione pugilistica italiana ha iniziato ad aprire un pochino gli occhi quando abbiamo fatto la nostra premia esedizione a Casal Bursato il 21 ottobre 2021. Ha iniziato a fare un regolamento, quindi riguardante il contatto, quanti onci devono essere i guantoni, il tipo di lesione con cui l'avversario deve combattere, perché ovviamente un ragazzo con una lesione bassa, come magari l'io lombare, le due e le tre, è facile combattere come una lesione a metà schiena, perché il ragazzo con la lesione bassa ha gli addominali, un po' di addominali li ha, il ragazzo con la lesione a metà schiena deve mettere comunque una venda e se fa questo movimento non ha la forza di tirarsi su. Quindi la federazione sta anche facendo un regolamento anche in base comunque alla lesione spinale che un atleta ha. Ci stanno lavorando e spero che entro fine anno la cosa venga concretizzata, perché adesso... Stanco? No, oggi no. No, dai, un po' di chiudo. Qualcuno vuole seguirti sui social? Come ti trova? Allora, se volete seguirli sui social? Allora, su Instagram è simonedessiparabox, tutto attaccato, su Facebook è simonedessi, su TikTok anche simonedessi, e poi c'è appunto, come dicevo prima, una pagina di Facebook che mi farà piacere che andate a visitarla, perché è molto interessante. Si parla solo ed esclusivamente di Parabox, quindi degli atleti che si allenano, delle esibizioni che abbiamo fatto, e andate a seguirli anche lì, perché è una pagina molto bella che piano piano sta crescendo. Grazie mille. Grazie a te. Ciao.